I consiglieri di maggioranza disertano la commissione d'inchiesta sullo stadio, una decisione che arriva dopo il diktat del sindaco Gaspari dei giorni scorsi. Il PDL non gradisce la scelta e contrattacca. Continueremo in commissione perché è giusto che sia così. Il Consiglio Comunale ha votato questo organismo, quindi noi continueremo la convocazione. Ha fatto bene Tassotti oggi a chiamare tutti i componenti. Poi dopo chi non verrà e farà implodere questa commissione se ne prenderà naturalmente la responsabilità. La partecipazione delle ditte, poi c'è anche il caso Emili. Secondo lei qual è stata la motivazione che ha spinto i consiglieri a non partecipare più? Io credo che la motivazione sia oltre quella di non volere fino in fondo fare chiarezza anche un braccio di ferro tutto interno al PD perché nel momento in cui il Presidente ha accettato di voler ascoltare come è giusto che sia, sia la Emili che Pezzuoli evidentemente perché sono persone informate sui fatti, c'è stata questa netta chiusura. Quindi conta di più per questa amministrazione, diciamo e questo forse è il male minore, la verità oppure questo scontro tutto interno alla maggioranza o ex maggioranza. L'altra domanda è questa. se veramente si vuole arrivare alla verità, alla chiarezza, per quale motivo è ostativo il fatto di ascoltare chi all'interno di questo Affair Stadio ci ha lavorato e può portare degli elementi di chiarezza? La decisione arriva dopo che il Sindaco aveva invitato i consiglieri a non partecipare. Pensa che ci sia un collegamento diretto? Certo, sono consiglieri che hanno immediatamente eseguito quelli che sono gli input che vengono dal primo cittadino. Quindi la cosa è ancora più grave. Il primo cittadino che si permette di dire ai commissari di non partecipare e i commissari che sono eletti dal popolo che danno retta al Sindaco firmando dopo poche ore un documento che di fatto sfiduciano un Presidente. Presidente che diciamo sin dal primo momento era stato poco gradito a questa maggioranza evidentemente perché ritenevano che poteva fare un ottimo lavoro come effettivamente stavano facendo. Ricordiamo che questo Sindaco disse la Presidenza della Commissione spetta la minoranza però di fatto il Presidente all'interno della minoranza volevano scegliere loro. Grazie a tutti.